Il fascismo non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l'anima del popolo italiano. Il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione, non solo la scalfita, ma l'allacerata, violata, bruttata per sempre. L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Il tipo di uomo o di donna che conta, che è moderno, che è da imitare, da realizzare, non è descritto o decantato, è rappresentato, è nella pubblicità, onnipotente, che esplode in tutto il suo nitore, la sua assolutezza, la sua perentorietà, il nuovo tipo di vita che gli italiani devono vivere. Consiglio per gli acquisti. Bellissimo consiglio. Oggi nelle città, camminando per le strade, si è colpiti dall'uniformità della folla. Gli uomini sono conformisti e tutti uguali uno all'altro secondo un codice interclassista. Perché questo è l'ordine che egli ha inconsciamente ricevuto e a cui deve obbedire, a patto di sentirsi diversa. Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tolleranza. A cosa è dovuta tale omologazione? Evidentemente a un nuovo potere. Esso cambia la natura della gente. Entra nel più profondo delle coscienze. Ma non è la felicità che conta. Non è per la felicità che si fa la rivoluzione. Oggi questa felicità, con lo sviluppo, è andata perduta.